A causa di un colpo di sonno ha perso il controllo della vettura che è uscita di strada. È accaduto domenica 13 gennaio, poco prima delle 15, sulle strada statale 460 all'altezza di Feletto. Il conducente di una fila grande punto, CE, 36 anni di Rivaloro Canavese, si è addormentato alla guida. La vettura ha sbandato ed è uscita di strada andando a impattare contro il ponticello di cemento. L'urto l'ha fatta ruoteare a 180 gradi per poi fermarsi al margine della carreggiata. Sul porto sono prontamente avvenuti i carabinieri del nucleo di Omove di Ivrea, la croce rossa di San Francesco al campo e i vigili del fuoco di Castellamonte per la messa in sicurezza del mezzo. Subito a soccorso il giovane è stato trasportato all'ospedale di Cirie. Non è in pericolo di vita. Subito a soccorso il giovane è stato trasportato all'ospedale di Cirie. Non è in pericolo, non è in pericolo, non è in pericolo. Grazie. Grazie.